Ci sono andata? A breve riceveremo i risultati dei primi controlli. Sono certo che qualcosa verrà fuori. Notizie del signor Riva? Siete divorziati, vero? Separati. Da quanto? Quasi quattro anni. Avete un buon rapporto? Ci stiamo lavorando. Ci state lavorando? No. Ti viene in mente qualcuno che potrebbe avervi perso di un'ora? Non lo so, un'ex collega di suo marito, un superiore? Vabbè, stiamo vagliando ogni possibilità, signora. Non conosco molto di cui aveva stato solito. Bene, se vuole tornare. Nel caso la richiamo io appena ci sono notte. No. 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 No.